Audi Connect Plug & Play, lo strumento della casa dei quattro anelli che vi permette di connettere la vostra Audi in rete in modo semplice e veloce. Vi basterà collegarlo alla vostra auto. Non perdetevi l'occasione di guidare dal domani. Basta acquistare l'Audi Plug & Play e montarlo per accedere a informazioni sempre aggiornate sul livello carburante, chilometraggio, posizione di parcheggio e scadenza service. Da oggi grazie al MyAudi avete la vostra auto direttamente sullo smartphone. Questo vi permetterà di fissare direttamente appuntamenti service, sfruttare il servizio panni assistenza attivo 24 ore su 24, il registro digitale dei viaggi e il monitoraggio dei rifornimenti, entrambi scaricabili. Contattateci per maggiore informazione. Grazie a tutti.